serata impegnativa, è un disastro, non abbiamo neanche iniziato, non abbiamo neanche iniziato allora subito li salutiamo e poi andremo sui temi Milan naturalmente Giussi vado a salutarlo, un direttore, vieni qui più vicino al mio fianco, vicini vicini che noi ci siamo in tanti quindi è così, come in barriera, come si va in barriera, va beh te è inutile per me, in barriera, vai eccolo, oppure così giusto, c'è un ex che giustamente dice difendiamoci il direttore sportivo Stefano Capozzucca mi sembra abbastanza tifosa da magica, c'è scritto, siete alla Roma? no, da Lazio, sì, è da Lazio, Ilaria Bianchi, buonasera, 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 c'è la Champions per nulla è amico dell'allenatore, se vuoi conoscerlo Sarri, a freddo ti metterà buona parola qua invece praticamente generazione Z, almeno i 18 anni li ha compiuti, possiamo dire? meno male, Chiara Basso, ciao Chiara, ciao Michele, perché tifi? Milan, ecco qua, siamo in casa subito, buona, infatti a un certo punto, avete combinata grosse, no, allora internet non ritengo che sia una cosa legata esclusivamente al mercato, perché tu lì hai gente che ha fatto il mercato brillantemente, purtroppo era un discorso annunciato, siamo sorpressi forse dal fatto che ne parliamo il 5-6 di giugno, quando di solito... bisogna capirlo, sta di fatto che il Milan scorso ha perso tutto il mese di giugno per rinnovare il contratto di Maldini e Massara, adesso invece il direttore è Jacobelli, però stiamo arrivando al fallimento della bandiera uguale dirigente, non è detto sono a bandiera in campo... comunicato ma la decisione è maturata nel tempo... non è un fulmine, c'è il sereno Alfredo arrivo da te, chiedo alla regia anche con il coordinamento di Matteo Facecchia... dobbiamo togliere perché perché comunque Juric ha deciso di restare... purtroppo non ci siamo riusciti con la regia con... mezza minerale con una brioche, asciugami in fretta e ritorniamo posh, anzi rimaniamo scollegati, oh shit!